Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della tecnologia Che facciamo in questo video oggi? Riprendiamo quello che avevamo lasciato in sospeso nello scorso Perché mi sono fatto prendere la mano con i glitch della cosa, cose tristi Vabbè, cosa dobbiamo fare? Allora, dobbiamo fare l'autocraft di Industrial Diamonds Diamonds, io ho scaricato il jetpack Mi farei giusto, mi farei giusto, sono appena arrivato il jetpack Carica sto coso, caricolo Allora, dobbiamo fare stato craft Solo che io avevo ovviamente il compressor già occupato E io sai che ti dico? Lo levo Ha, la faccia tua Ci metto l'interfaccia, ci metto pure il craft Tiè, bam L'encoded pattern Esatto ragazzi, la pattern che ci craftava la compressed coal ball nella coal ball Perché ovviamente ci vuole la recipe con l'interface E non ci si può proprio fare nulla Perché altrimenti i craft non vanno L'abbiamo già testato negli scorsi video Ok, comunque continuo a ripetere Se avete domande, fatele sotto i video Ho letto un commento molto interessante Bellissimo Che dice Xander Fai una raccolta di tutte le domande che ti hanno fatto E fai un video in cui spieghi tutte le domande Sì, se può fa Sono molto d'accordo Fatemi domande serie riguardo cose che ho già fatto Ovviamente, non cose che ancora devo fare E scrivetemi nei commenti Fatemi queste domande E io vi dirò Vi farò un video In cui spiegherò Risponderò a tutte le domande che mi avete fatto Ovviamente Arriverò tipo Quando arriva 10 domande Faccio il suo video Quando arriva 15 domande Eccetera Comunque Domande interessanti Mi raccomando Riguardo Minecraft Ovviamente riguardo cose che ho già fatto Nella serie Voglio fare questa cosa È simpatica Sì, la voglio fare Non mi frega niente Comunque Tornando al nostro autocraft Abbiamo fatto le compresse E le schifezze lì E ci serve un altro compressor Perché io ho fatto già i materiali Compressor Singulari compressor Spam Che manca, scusami L'advance machine Che io ho utilizzato Ovviamente non ho più Adesso ce l'ho di nuovo Volà Semplice Queste recipe Lo fate io, eh raga Non sono fatte così normalmente Eh, quindi non andate a cercare in giro Perché altro non le trovate Ok Qui ovviamente ci va l'export E deve esportare Quella roba che avevo messo prima Ho baciato Rimette Chi se ne fotte Ok Oltre a quello adesso Oltre a quello Ci serve un altro segnale redstone Segnalino redstone Redstone Per attivare ovviamente Il compressore Sempre attivo Ricordate ragazzi Non dimenticate mai Di mettere il segnale redstone Voilà Permattivo Eh sì ragazzi A quanto pare Consumano 3 megajoule Io fino adesso Non riesco a vedere Tutti questi grandi consumi Da questa zona Cioè riesca a malapena Ad arrivare sui 600 700 megajoule a tick Che non è molto Alla fine riesco a tenerlo stabilmente Tranquillamente E per quanto riguarda Lo spazio dell'ME Ho fatto un paio di upgrade Alle chest Proprio semplicemente Niente di particolare E mi serve un altro export Perché devo esportare dentro Non ho gli export bus Mi pare giusto Exports Io sto sempre senza Sti export bus Io non so veramente Che inventarmi ragazzi Sto sempre senza Ecco Un finito all'interfaccia Mi pare giusto Mi fa l'autocraft di laser L'autocraft di ex Mi fa tutto È vero l'autocraft di laser Ma un ossigione Lo facciamo ragazzi Scusate se non lo sto facendo Ma Non lo faremo Anzi potersi pure stasera Ah si ragazzi Avete notato? Ho ricominciato a fare due video al giorno Della tecnologia State contenti? Eh si l'ho detto che da lunedì Se seguiste la pagina facebook Io sulla pagina facebook Ho scritto che tutti Tutti Dalla lunedì Ricominciavano due video al giorno Della tecnologia Perché voglio spingere questa serie Voglio comunque andare avanti Abbastanza pesantemente Tornando a noi Qui gli export e gli import Li ho settati Devo fare quell'altra cosa Con le compresse Le compresse Queste qua Allora questo Ne crafto un altro Begin Dovrebbe partire tutto l'ambardama Si trasforma Transformers E si crafta Ecco si è craftato Fichissimo raga Funziona benissimo Questo compressed Coal Schifo Diventerà Il nostro Scusate No che il nostro Va nel craft E' vero Perché diventa Scusate No mi sono perso Perché sicuramente ci vuole Si diventa nel craft Diventa il coso grosso Il chunk E poi va compressato Giusto Andiamo un attimo Si diventa il coal chunk Ok quindi devo fare un coal chunk Eccolo qua Devo fare uno di questi Si mi stavo confondendo con gli oggetti Ragazzi Aspettiamo un attimo Ci metterà pochissimo Ok ecco 6 7 8 Perfetto Già l'ha preparato ragazzi Un attimo Il nostro coal chunk Diventerà Industrial Diamond Quindi adesso devo craftare Industrial Diamond Mettiamo la Recype Qui Questo lo compressiamo Diventerà Industrial Diamond Diamante industriale Ragazzi è importante sta cosa L'Industrial Diamond Non è come il diamante normale Cambia State attenti Alcune Recype Non vanno con l'Industrial Diamond Anzi molte Recype Un diamante industriale Solo a scopi industriali Non è un vero e proprio diamante puro Quindi non confondiamo le cose Fatelo solo nel caso sia necessario Nella Recype Non è una farm infinita di diamanti Non è che dal carbone Viene il diamante infinito Ok Chiudendo sta parentesi Possiamo adesso in teoria Fare l'autocraft del Diamond Greener Oh no Più che altro Anzi Non so che faccio Diamant Ne crafto un po' Ne crafto 8 Perfetto Abbiamo l'Industrial Diamond Perfetto Adesso possiamo fare il nostro Greener Almeno credo Vediamo un po' Ah Manca un'altra cosa Esatto ragazzi Mancano le Diamond Dust E queste Dobbiamo farle da diamanti normali Quindi prendiamo un po' Di diamanti Li mettiamo tranquillamente nel polverizer Qui Proprio easy peasy E facciamo un po' di dust Ma proprio semplicemente Niente di particolare Raga Proprio stupido Easy peasy Lemon squeezy Ok Adesso dovrei avere tutti i materiali E voilà Ecco le nostre su Quattro su Pronto Posso fare Il Grinder Ah non ce l'ho ancora messo La Recipe Non l'ho messo la Recipe Scusami Industria Non ho più messo la Recipe Vabbè Oh ho fatto Oh Aspetta Fermi tutti Ok E' stato più facile Di quando pensassi Manca qualcosa Che manca sotto Il Machine Block Eh lo faccio Questo è il problema Machine Ma che ne so Quattro Eh si ragazzi In questa puntata Facciamo il Grinder Eh si ragazzi Voglio farlo Perché almeno Comincio a utilizzare Quelle celle Che saranno diventate Un po' pesanti Sinceramente Mi sono un po' stufato Di tutte quelle celle Scusa Finire i circuiti No Allora perché Per qual è il tuo Qual è il problema Ecco qui ragazzi Industrial Grinder Industrial Grinder ragazzi Si crafta Con i Machine Block Però Quelli base E quelli Reinforced Io L'autocraft dei Reinforced Non ce l'ho Dovrei farlo Vabbè In base Mi tengo questi Sono più che sufficienti Dovrei fare altri Reinforced Machine Casing E non mi ricordo Il craft Come si craftavano Machine Un attimo Machine Casing Eh si ragazzi Non servono gli Advanced Nonostante il macchinario Sia avanzato Non servono Advanced E io non ho materiale Non ho materiale Per fare un cazzo È possibile No no ecco Sono un po' pochi In effetti eh 10 blocchi Bastano Mi sa di no No per niente No aspetta Scusa Quanti blocchi ho Io per fare un Grinder 2 3 6 9 18 Ah no 10 bastano Che sto dicendo Ma che cacchio vi faccio Walter Aspettate Aspettate Vi faccio vedere perché bastano Perché alla fine non è È molto più semplice Di quanto pensate Vi faccio vedere Allora Importante numero 1 Importantissimo Non dimenticatelo mai Non vi sbagliate Perché se no fate un macello Esplode tutto Il Grinder Il Grinder È a basso Voltaggio Ok Perfetto Il Grinder è a basso Voltaggio E a differenza degli altri Macchinari Mi frega Mi sa Eh sì Mi frega la stragrande Perché l'industrial Grinder Si fa in un altro modo Vi faccio vedere Vediamo eh Non so se in questa versione va Proviamo Proviamo La questione delle quattro facce Quella che vi dicevo Quella specie di glitch Della GregTech Allora In teoria al centro ci vuole l'acqua Quindi se non si chiude acqua Oltre Oltre sta qua fuori Non c'è nemmeno un po' d'acqua Qui c'era un mare una volta Che fine ha fatto Raga C'era un mare una volta qui Eccola sabbia L'acqua è qui da qualche parte Dai lo so che ci sei acqua Fatti vedere Acqua vieni fuori Lo so che ci sei Eccola No No Non c'è acqua raga L'hanno rubata tutta Sto spaccando tutta la piattaforma Raga Dove cacchio ho messo l'acqua Eccola Eccola Acqua Bella di papà Bellissimo Chiudi tutto Ok ritappiamo tutto Allora Eccoci qua Prendiamo l'water packet Lo mettiamo all'interno Ovviamente è la stessa questione Della Della blast furnace Solo che invece della lava Ci va l'acqua ovviamente Perché Un industrial grinder Vediamo se va Va sul lato Ok ragazzi Allora è molto importante Guardate Non va Questo è molto importante Esatto Per questo mi fregava Era questo di cui parlavo ragazzi L'industrial grinder Ha bisogno di essere piazzato Al centro Del macchinario Ecco qui faccio i danni Ah no ovviamente non ho torce Che bello non avere torce raga Avere i neon E tutta roba Non distruttibile dall'acqua Come godo Non lo so perché Sono contento Soddisfazione Comunque dicevo Il macchinario non va messo così Vi faccio vedere come Aspettate che spacco tutto Ecco qui ragazzi Questa è la soluzione migliore E ovviamente Mettere il macchinario Un blocco nel terreno Molto semplicemente Perché ho fatto questo ragazzi Allora il macchinario Oddio no aspetta Ma mi serve l'entrata No non mi frega niente Mi serve l'entrata sotto Perfetto così Vedete che sto facendo stavolta ragazzi Sto risparmiando i blocchi Non sto facendo lo stesso errore Che ho fatto sopra Vedete Sto incrociando i macchinari Che è molto più carino e guardabile E poi magari c'è più spazio per camminare no Poi qui metterò l'altro i macchinari Non ci si passa più Eh Così almeno riesciamo a passare E infatti mi sa che farò lo stesso sopra ragazzi Appena mi pia la brocca Mi parte la brocca Caspacco tutto e rimetto tutto a posto Però dettagli Però adesso non ce l'ho Non mi è ancora partita Adesso è ancora tutto ok nella testa ragazzi Quindi finché non mi esplode la testa Dico E il sistema Ok tutto a posto Comunque Un grinder l'ho messo qui Ne metterò altri Uno qui E uno qui Poi uno qui Poi uno qui Questo sistema del multiblocco Che non sapevo che ho proprio failato In teoria In teoria dovrebbe essere conosciuta come cosa Eh Non lo sapevo Mi sta facendo risparmiare un sacco di roba Comunque Industrial grinder Eeeh Guardate che difficoltà Che è tutta questa mega interfaccia stranissima Allora Questa mega interfaccia stranissima E' molto più semplice di quanto si pensa Si mette dentro l'oggetto E il liquido Esatto ragazzi Qui prende anche i liquidi Potete mettere acqua con un acquisto accumulator O addirittura Non so se posso mettere il mercurio liquido Io dovrei avere il mercurio giusto Esatto Facciamo questa prova La facciamo qui nel video ragazzi Io non so se è fattibile una cosa del genere Adesso la proviamo subito Guardate Mi è notato questa roba No fluidut era Mi confondo con la 1710 Non è fluidut è liquidut O è fluidut È liquidut Andaggia l'1710 Era uno che fa 5-2 È tutto sbagliato Ok Allora vi faccio vedere subito che faccio Ah mettiamo un tank Vediamo se ci va dentro il mercurio Perfetto il mercurio è andato dentro E adesso vediamo Se riesco a mandarlo dentro l'industrial grinder Vrenciata Sì ovviamente si frencia tutto ma non è un problema Ok Rivrenciata Allora fin adesso non va Cioè il mercurio non è entrato all'interno Ma non è un problema Perché può darsi che il mercurio è entrata sotto Facciamo un buco sotto Vrenciamo Vediamo No A quanto pare il mercurio liquido non piace ragazzi Io non so che farci No Non lo prende Strano Molto strano Stranissimo Dovrebbe prenderlo Vabbè non prende il mercurio liquido Qui se ne fotte Vi faccio vedere come risolvo Ok ragazzi Problema Problema serio Stai intasato all'ME Stai intasato Ok Allora io avevo Uno storage Eccolo qui Avevo uno storage cluster ragazzi Lo vado subito ad utilizzare per creare Lo storage cluster è quello per fare il disco da 64k E quindi io basta che vado a fare uno storage housing Questo storage non so se ve lo ricordate È quello che usai molto tempo fa No non lo fa accortare Ehi E mo Cacchio Aspetta un attimo Aspetta però posso fare 64k direttamente Eccolo Ok Questo cluster Questo storage che mi rimase tanto tempo fa È quello che utilizzai per fare le Le schifezuali Ok sarei più Madonna si sta riempiendo un attimo Oddio già 3000 sta Pensa quanta roba c'era in attesa Dicevo È quello che utilizzai per fare le antimatter le cose Oh la smetti mi stai massacrando di botte Ma che problemi ha sto mod Cheat bug Ma ha distrutto quello scheletro Oh ma che cazzo fai Devo fare un'armatura Vaffanculo Ok se Se sei riempito e sei risvuotato Ok non voglio sapere guarda Preferisco non sapere Comunque dicevo È quello che qui facemmo Tempo fa le antimatterie L'ho detto sette volte Per quello scheletro di merda Cioè io veramente Comunque Allora dovrei aver craftato Tutte le interface Devo poter fare gli export bus Con gran facilità Dovrei eh Dovrei Storage No Non serve l'export Export Ah vediamo un po' Se riusciamo a far partire Questo industrial grinder Eh ragazzi Purtroppo Non è che va tutto Per liceo perfetto Come l'olio eh Ho solo 18k Di ferro store Ma Ma che sarà mai Tutto normale Liceo Isolato Come l'olio Comunque Eh vediamo un po' Se esporta l'or L'or lo esporta Perfetto Esporta stack E vediamo se esporta il mercurio Anche il mercurio Raga è già online Cioè non abbiamo bisogno Di due export Bellissima sta cosa Mi piace Mi piace Dato che non abbiamo bisogno Di due export Io metto direttamente un import Così Ecco fatto Eh Online ragazzi Industrial grinder Pronto per l'utilizzo L'unica cosa che manca Ovviamente È una piccola fonte di energia Ripeto Non sbagliate Va 32 E uti 32 32 32 32 32 32 32 Non vi sbagliate 32 Bam E ovviamente 32 Adesso riprendiamo Da questo cavo Fibra di vetro Che scenderà lì sotto Farò tutto questo viaggetto Ok Ecco quel mio bellissimo Solco Antiestetico Che rovina Tutta la stupendura Della mia casa Ormai l'ha distrutto Completamente Però cerchiamo adesso Di dare una sistematina Oh Dovrebbe essere già partito Quindi Insufficiente energy line Ma che cazzo dici Ok raga Non è possibile È cambiato Non mi dire che è cambiato È a 128 Ma non è vero mai Perché ha fatto una cosa del genere Gregorius No Ma no Ma non è un macchino A 228 Questo è una merda No raga No 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 Gregorius Cosa fai Questa non mi ha dove fa Mi rovina tutti i grandi piani E ora non posso metterlo sopra Questo Non c'è spazio Ma porca paletta Gregorius Ma perché alzi i voltaggi Della roba E non avverti Manco per niente È una vita che Nell'147 era 32 Sono sicuro a 100% Porca paletta E ora che è 128 Non posso metterlo qua Devo metterlo sopra allora Più su Non posso andare No No Non deve essere così No No Non esiste proprio È tutto rovinato È tutto distrutto Tutti i miei sogni Gregorius mi ha rovinato I miei sogni Astardo Non puoi aumentare i voltaggi Così senza preavvisare C'è la gente che muore C'è la gente che muore Per molto meno Capisci Non ci credo mai Ritappiamo tutto Sposto tutto di sopra Tutto su 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 Per forza Eh sì ragazzi Perché io in teoria Mi ero fatto tutto un big progetto Nella mente Scusami tanto eh Io vorrei capire una cosa Mi ero fatto un big progetto Che praticamente qui sopra Ci andava la roba Alto voltaggio Ma così mi è rovinato Proprio tutto 128 EUT 5 secondi Porca vale Però 5 secondi E 128 Macello di EU È un pazzo Gregorius E infatti ha ridotto A 5 secondi Una volta per grindare una roba Ci voleva mezz'ora Ok Ha quadruplicato il voltaggio Però ha diviso per 4 Il tempo Forse un po' di più De per 4 Vabbè ci potrebbe anche sta Ma non so molto d'accordo Gregorius Non so per niente d'accordo Ok ragazzi Quindi dovremmo fare Degli altri Converter Che noi avevamo dentro la bag La nostra bag of folding Che abbiamo perso durante il live Figura di merda Lasciamo perdere Craftiamo altri MW transformer Allora quindi Gli MW transformer Dobbiamo mettere come al solito Rivolti verso l'alto Quindi mettiamo un blocco Su cui appoggiarci Ragazzi non fate mai stronzate Se non esplode tutto Ecco Questa è una stronzata No Lo rompe con la French Ok così Ok così Ok Ok L'entrata ha sempre 3 puntini L'uscita è sempre il palino singolo Non vi sbagliate mai Ok tutto giusto Andiamo al piano di sopra Togliamo i blocchi E possiamo mettere i nostri macchinari A meglio il voltaggio qua sopra Certo però adesso Gli EU non bastano mica Un macello Ragazzi Si è sfancolizzato tutto E adesso io dovrò mandare pacchetti multipli Da 2000 watt Questo è un 52 Non basta proprio No raga Qui è tutto da riprogettare Sto voltaggio adesso mi rovina tutto Perché se io qui Non basta Vabbè Questo me lo rifacciamo Ce lo rifacciamo nel prossimo video E magari vi spiego anche il perché Se non l'avete capito Me lo scrivete Io Ah non posso leggere Perché non sto a casa Ragazzi Sarò a Milano Quando uscirà questo video Mio Dio No sarò tornato forse Non lo so Vabbè Purtroppo non posso fare altrimenti So costretto Niente Dobbiamo cambiare Dobbiamo fare altri voltaggi qua sopra So Vai industrial grander qua sopra Chi se ne fotte Xander Ah no però I cavi che escono da sotto Che bello l'utile Che schifo Ma diventa un orrore Oddio proprio un orrore no Ma proprio Proprio un orrore no Oddio che posso fare Questa Oddio Sì Ferma tutto Sì 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 Questa è la soluzione Raga Eccola la soluzione Il grinder che prende da sotto Guardate un po' C'è il cavetto medio qui Oh vedi Vedi Tutte le cose poi vanno a coincidere C'è un medio voltaggio qua sotto Raga Qui metto il grinder Guardate che matto Pam Arato Arato perché io faccio così Che pezzo di zero Guardate che sto facendo Sono un bastardo Me lo dico da solo Scusate ragazzi Ma ci sta Death Tattiche Si è collegato Oh mio dio Stacca tutta Ah sta roba quindi non serve Adesso lo lascio lì Va togli Per ora Non serve trasporto di energia Qui Ok ragazzi Abbiamo trovato la soluzione Per il grinder Era molto più semplice Era molto più trollosa Di quanto pensassi Mi sono fregato da solo E ragazzi Il grinder Sarà online Io adesso rimetto l'export Che esporta Il Mercurio E il ferros Che è già settato E qui in porta E ovviamente basta Basta che faccia un bug E tiro sotto il cavo quindi Anche da qui C'è tipo Ecco da qui Così Ah A posto Ok ragazzi È stato molto più semplice Di quanto pensassi GG GG Anzi ancora meglio Ancora meglio Risparmiamo cavi Guarda Risparmiamo due cavetti Dove l'import Ecco E vula ragazzi Industrial grinder online Mettiamo il mercurio Partito E voi direte Perché fai tutta E sei cazzata Che serve sto grinder Senza senso Ecco a che serve Avete visto la roba Che è uscita da quel ferros Non ha senso Ragazzi Quando mettete un oggetto Con il mercurio Dentro l'industrial grinder Esce una valanga di roba Guardate Ad esempio Dalla netherrack Esce l'oro A buffo Dall'oro esce tre oro E un pezzo di coppia E un pezzo di nickel A buffo Cioè roba Moltiplicazioni in osense E nel caso del ferros Ragazzi Ci esce tre nickel Cioè triplichiamo il ferros Esce anche il platino Lo sapete che fa il platino? Volete veramente sapere Cosa fa il platino? Ve lo faccio sapere Guardate Si mette nella centrifuga E esce lì Peridio Peridio Ok Per questo video è tutto Mi raccomando Spoliciate per il fatto Che faccio due video Minimo Minimo Video lunghi anche Stanno venendo pure troppo lunghi Dovrei tagliarli ancora Per questo video è tutto Ciao a tutti Ciao a tutti